Per prevenire le infezioni è importante lavarsi correttamente le mani, poiché la maggior parte delle malattie, come il raffreddore o l'influenza, è trasmissibile tramite il tatto. Il nostro consiglio è quello di lavarvi le mani non solo quando sono evidentemente sporche, ma soprattutto prima e dopo i pasti, dopo essersi recati in bagno, dopo aver frequentato luoghi affollati, prima di assumere i farmaci, dopo aver staruntito o dopo aver tossito e dopo essersi soffiati il naso. Vediamo insieme come lavarci correttamente le mani a casa o in presenza di un lavandino. Bagna le mani con acqua, applica una quantità di sapone neutro, friziona le mani palmo contro palmo, il palmo destro sul dorso sinistro e viceversa. Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro, dorso delle dita contro il palmo sinistro e viceversa. Frizione rotazionale dei pollici, dita contro palmo, sciacqua le mani con acqua, usa una salvietta monouso per asciugare le mani, chiudi rubinetto con la salvietta monouso. Una volta asciutte le tue mani sono sicure. Non preoccuparti se sei fuori casa, le tue mani saranno comunque al sicuro. Basterà utilizzare un gel antisettico. Vediamo insieme tutti i passaggi. In 30 secondi le tue mani saranno pulite. Versa nel palmo della mano la soluzione alcolica e friziona. il palmo sopra il dorso intrecciando le dita, il palmo contro il palmo intrecciando le dita, dorso delle dita contro il palmo opposto. Frizione il pollice stretto nel palmo. Frizione le dita nel palmo della mano. Una volta asciutte le tue mani saranno sicure. Grazie. Grazie.